Siamo nel 2006 e sta per uscire la nuova PlayStation, con il peso sulle spalle di dover sostituire la precedente che ha già fatto la storia. E alla polifoni stanno decidendo il primo tracciato da creare per esaltare la qualità della nuova console. Ed è così che nacque Ager Not One, un tracciato situato tra le mastodontiche montagne del sud della Svizzera, dove ne prende lo stesso nome. Non a caso è stata scelta questa location per un nuovo inizio, contando che questo luogo è un punto di ritrovo per molti tracciati della serie, come Swiss Alps, Matterhorn, oppure un più conosciuto Deep Forest. Oltre a questo dettaglio, Ager è ufficialmente il primo tracciato ad essere sviluppato in alta definizione, data dalle possibilità più alte della PlayStation 3, oltre ad essere uno sfacciatissimo flex datato dalla polifoni digital. Ma oltre a queste splendide montagne, questo tracciato ha un background storico che è oscuro e quasi dimenticato, ma direi di finire con i preparativi e iniziare a raccontare come questo tracciato dalla parte più interessante dello sviluppo di Gran Turismo sia diventato un normale circuito quasi ininfluente per quanto poco è stato utilizzato nei capitoli successivi. Immagino che molti di voi, dopo avermi sentito parlare di oscure e dimenticate origini di questo tracciato, mi avrete dato per pazzo, perché ai più questo percorso è apparso nel prologo del quinto, o per chi non lo ha giocato, direttamente nel quinto capitolo. Ma in verità non arriva da nessuno di questi due titoli, ma da un capitolo precedente mai ufficialmente rilasciato chiamato Gran Turismo HD. Questo titolo non è mai uscito, se non con una demo del tardo del 2006, ed è uno degli archi più oscuri dello sviluppo di Gran Turismo. Essendo che nessuna delle demo che vi mostrerò nel video, eccetto quest'ultima appena nominata, sono reperibili e giocabili, rendendo questo tracciato ancora più interessante, essendo che nessuno può attualmente giocarlo e vederlo in HD, contando che tutti i video che lo rappresentano sono in uno stato piritoso, ma dopo tutto parleremo di footage che non sono effettivi video registrati con condizioni ottimali. Ma prima di mostrare la prima versione in assoluto di Ager, vi devo prima spiegare che cos'è GTHD, perché detto così sembra che me lo sia inventato io al momento, ma esiste davvero e ora lo so che sembrerà assurdo, ma il nome prima di essere chiamato in questo modo era Vision Gran Turismo. E non sto parlando delle auto, ma del progetto che all'E3 del 2005 veniva presentato da Gran Turismo, con un molto estetico trailer dove si poteva vedere un GT4 in HD, grazie alle potenzialità del PS3 e con 16 auto in pista. Tantissima roba all'epoca, contando che prima di allora in un capitolo di GT non esisteva una gara con più di 6 auto, e un vero momento di batticuore per chiunque ha giocato a Gran Turismo 4 come il sottoscritto. Ma non mi concentrerò molto su questo, perché quello di cui abbiamo bisogno arriva più avanti, al Tokyo Game Show dell'anno dopo, dove oltre alla presentazione di GTHD viene introdotto il concetto di auto premium. E ovviamente anche i tracciati dovevano essere allo stesso livello grafico. Ed è qui che nasce Acer, che in questa prima versione in assoluto era completamente diversa da quella definitiva. Però, come detto precedentemente, non si possiede una forma giocabile, quindi per mostrarvi i dettagli dovrò usare quello che ormai si può trovare solo nell'E3, ma dando soltanto un occhio alla mappa vi farà capire che siamo abbastanza lontani rispetto alla sua versione definitiva. Per iniziare, la fisionomia del tracciato è completamente diversa e piena zeppa di irregolarità che la rendono più complicata e meno lineare. Non a caso in questa demo erano presenti la impiesa Rally Car del 99 e la Selica GT4 Rally Car del 95, e teniamo un minuto per l'impiesa che non è mai arrivata nella sua versione HD in nessun titolo successivo. La pista, originalmente, è stata pensata come tapparellistica, coincidendo non solo con il luogo geografico, che ovviamente non poteva dare le basi ideali di un comune circuito. Oltre a questo, c'è da notare che pure nella prima versione è presente lo stesso monte che già ai tempi era mastodontico, e altri dettagli di nota come le costruzioni al lato della partenza e il tunnel prima della parte finale del circuito. Di contro, tutto il resto della pista è differente. Le prime curve sono molto più impegnative, facendo schiantare chiunque provi la demo. Ci sono alberi alla sinistra del primo rettilineo e, poco più avanti, una curva a sinistra che sostituisce l'ormonimo salto presente in questo tracciato. Passando poi alla sezione delle curve AV, che erano così strette da rimettere in difficoltà per una seconda volta i giocatori delle demo, ed infine un completo settore dopo queste curve che è stato completamente tagliato nel suo design finale. Di questa versione, poi, nei vari footage, se ne può riconoscere una seconda, uguale ma con una mappa visiva con uno stile più grosso, che al confronto della precedente rende più chiara la comprensione delle curve, soprattutto nel punto dei tornanti che era precedentemente poco chiaro e confuso, ma con un dettaglio di nota che ci indica la precedente posizione del traquardo definitivo con una bandierina a scacchi, prima della seconda curva, dopo la discesa. Questo si avvicinerà poi allo stile che GT seguirà nei prossimi capitoli e, come vedremo, anche nelle prossime versioni di questo tracciato. Passa poi circa un anno dalla precedente versione e, per la prima volta, possiamo vedere il secondo design di questa pista, e ci arriva grazie a un trailer dedicato alla Nissan Xenavi Nismo Z, dove possiamo vedere i primi cambiamenti radicali nella pista, come per esempio la completa rimozione di quello stile molto realistico e molto rustico, passando ad uno con più linearità, avvicinandosi molto alla sua versione definitiva. Ma non del tutto. Infatti, al confronto della precedente, la gareggiata è aumentata e in certi punti, come lo stesso inizio, sono stati modificati e addolciti. E questo, secondo me, è stato fatto proprio per avvicinarsi alle lamentele dei giocatori che, provando le demo, si andavano sempre a scantare nella prima curva e, come potete capire, quando avete solo due minuti e poi vi dovete alzare per dare il posto a un altro, perdere tempo prezioso non è la cosa più simpatica al mondo. Comunque, altre differenze da far notare sono il salto, che qui appare per la prima volta, l'inclinazione dei tornanti, che ora sono meno chiusi e quindi più agevoli, anche per vetture decisamente meno alte, come la stessa GT500 mostrata in questo trailer, anche loro molto probabilmente modificati per agevolare i giocatori, ed infine è stata totalmente troncata la parte dopo il ponte, che ora è diventato il grande curvone che conosciamo benissimo e che io detesto a morte. È troppo lineare, troppo comune, troppo banale, non mi piaceva. Diciamo che questo rimodellamento è stato fatto totalmente per avvicinarsi ai giocatori meno esperti, rendendo tutta la pista meno aspra, anche se per me è più una storpiatura che un vero miglioramento. Ma dopo tutto, non sappiamo che piani avessero per questa pista. Probabilmente, essendo il primo tracciato creato dopo Gran Turismo 4, hanno preso ispirazione da piste come Città d'Arie e Costa d'Amalfi, che sono state create ai tempi per essere solo e unicamente terreno di sfide testa a testa, con poco spazio per dei sorpassi e probabilmente anche Ager inizialmente era una pista di quella categoria, poi trasformata in questa seconda versione per essere utilizzata negli eventi con più comodità, tenendo conto anche del suo utilizzo nei titoli successivi. Più o meno. Per posta informazione in GT5 Prologo, con più di 50 eventi solo 5 sono ad age. E in Gran Turismo 5 esistono solo 2 eventi nella carriera e... Beh, signori, Polifoni Digital faceva cazzate anche i tempi d'oro. Oltre a questo, c'è da sottolineare che una delle aggiunte arrivate con questa seconda versione è la presenza di segnalini a bordo pista di inizio e fine della zona da drift, introdotta per la prima volta proprio su questa unica demo di GTHD. Ma anche da un secondo segreto indizio, indirettamente condiviso da un post del matrimonio di una persona dietro alla polifoni, su Twitter dove a quanto pare gli avevano dedicato una versione speciale di GTHD con delle macchine decorate ovviamente per un matrimonio e con la modalità drift attivata, ma con al posto delle classiche bandierine dei cuoricini senza contare che dietro l'abitacolo c'erano proprio i due sposi. Ma che cazzo? Io non lo so, signori, cosa pensassero dietro a GTHD, ma a quanto pare cose, tante cose, per fare questo. Perché? Questa appena descritta è a tutti gli effetti la seconda versione della pista che a mio parere viene snaturata dalla sua originaria linea di pensiero. Infine, con l'arrivo di Gran Turismo 5, la pista cambia ancora, ma la differenza è minima e non si nota nemmeno. L'unica novità è la creazione dei pitstop, che oltre ad avere il titolo per l'attesa più lunga dell'intero mondo di Gran Turismo è decisamente inutilizzato. Giusto che in tutto il gioco non è mai presente un evento dove è necessario usare questa pitlane se non in sfide online, contando anche il fatto che nell'intera carriera ha solo due corse e l'evento speciale del Gran Tour. Diciamo che questo tracciato è stato parecchio trascurato, comprese le sue versioni su sterrato, altro radicale cambiamento della pista che prova a riportare il suo animo realistico di nuovo nell'aria, con degli estratti in mozzafiato, ma che non sono mai stati realmente sfruttati nella carriera di gioco, sia nel quinto che nel sesto capitolo. Ager è un tracciato che nella sua vita è stato presente fin dall'inizio dell'aria PlayStation 3, terminando proprio con essa, giusto che non è più tornato negli ultimi capitoli della serie. Anche se non troppo tempo fa è uscita una notizia su un vago ritorno di Ager nella serie da parte di Casonori stesso, però tutt'oggi non sappiamo ancora il 100% se tornerà nella serie di Gran Turismo e conoscendo la poliponi digital moderna, mettiamoci comodi. Per il resto, questo era lo sviluppo di Ager Norweather, con i suoi svariati layout. Se ti è piaciuto questo video, dove parlo di qualche vecchio tracciato della serie, dai pure un occhio a questi altri video, oppure iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su ogni mia prossima follia. Con questo è tutto, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!